Ciao, sono Denise, sono seguita da 5 mesi dal coach online Nicola Colle. Inizialmente ho seguito semplicemente un piano alimentare finalizzato al dimagrimento. Dopo un po' ho deciso di fare degli esercizi a casa come allenamento e così è stata per un mese, quindi mi sono approcciata ai primi esercizi a casa. Dopo un mese ho deciso di iscrivermi in palestra e ad oggi con Nicola abbiamo cambiato tre schede di allenamento. All'inizio la motivazione non era molto alta, infatti pensavo che dopo uno o due mesi comunque mi sarei bloccata, non credevo di farcela o che comunque non avrei avuto voglia di investire neanche il tempo di andare in palestra e seguire il piano alimentare. Invece ci sono stati dei risultati anche da questo punto di vista, perché inizialmente ho frequentato la palestra per due volte alla settimana, oggi cerco di incastrare gli impegni e di andarci addirittura quattro volte. Andare in palestra e comunque seguire il piano alimentare mi dà motivazione perché vedo degli obiettivi. Gli obiettivi non sono soltanto dal punto di vista numerico, quindi in chili e in centimetri, perché io in cinque mesi ho perso circa otto chili e mezzo e tantissimi centimetri, specialmente nel punto vita, circa una decina. Gli obiettivi sono anche dal punto di vista dell'autostima, perché credevo di non farcela, invece Nicola mi ha fatto credere in me stessa e comunque ad oggi penso sempre di riuscire a farcela sempre di più. Ci sono stati dei momenti in cui mi sentivo scoraggiata, in cui non vedevo gli obiettivi che volevo, volevo vedere dei numeri subito e immediatamente e Nicola mi ha sempre supportato in questo, mi ha sempre incoraggiata e questo è davvero un punto fondamentale. Non mi ha mai pressata con nessun piano e mi ha permesso di andare avanti anche nei momenti più difficili, di raggiungere sempre più obiettivi. Ora continuerò sicuramente con il coach online di Nicola, perché mi sento seguita 24 ore su 24, se ho un dubbio lo chiedo subito a Nicola e Nicola mi risponde. Continuo a vedere i risultati e questo è una cosa davvero fondamentale, quindi ringrazio assolutamente Nicola e tutto quanto.